Ho un semino che ci farà battere tutto quanto è il dago Esplodici Intanto rompo quelli Rompo quelli Rospotenti là È un drago rospotentissimo Torniamo e chiudiamo l'hep L'hep I have an app I have isodio Episodio Adesso arriva un enderman e ci butta giù Buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Buon ragazzo Episodio 38 30 qualcosa 38 37 Conchiamo davanti a questo bellissimo enderman Che ho costruito camera per segnare dove stava il portale E Così abbiamo detto Mentre eravamo dentro il mondo a formare cose off camera Abbiamo detto Ma che facciamo questo episodio Ma andiamo a battere il dago Ma si dai andiamo a battere il dago Quindi adesso andremo a battere il dago Ora permetto che Ah no 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 Permetto un cavolo Dovevo laggare invece no Vabbè meglio C'è 5 tacche Così va benissimo Ho un semino che ci farà battere tutto quanto è il dago Ok prego Prosegua con la lavazione Con la locchizzazione C'è la crafting table No Mi serve Ottimo Ok intanto la faccio una crafting table Prego prego Adesso spuola non si deve farci buttare dentro là Ok se siamo pronti siamo pronti adesso moriremo tutti Aspetta aspetta Io non ho più sul cibo Che fino ha fatto il mio cibo Tieni tieni Dammi in mezzo del tuo cibo Sì È dietro di te Io vado Aspetta Aspettimi Oh mio Dio Che emozione Che emozione Dove siamo? Ok siamo Quasi fuori dal Dall'isola Qui mettiamo subito in sicurezza Perché non mi filo Io devo stendere il drago Ok Inizia a fare la scaletta Ok Ok guarda che Episodio Neanche Neanche un numero Tondo Importante Così Ci è partito Ci è salito L'andiamo a ammazzare Sì Andiamo a ammazzare il drago Ma che sarà mai Ok guarda io Ok Yenerman Ecco fa fa puffo Io l'ho guardato però L'ho guardato L'ho guardato L'acqua 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 Fa dieci Dieci Va bene ammazziamo giusto Sti due E poi Aia Aia Dove siamo andato Dove siamo andato Aia Mi parto Mi parto Mi parto Mi parto Mi parto Mi parto Ok Oddio 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 Allora io direi che Uccidiamo il zendrago Io mangio me la p Mangio me la p No 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 Ormai no Ma sei stupido Bisogna Una aura potentissima Ma mi segnali pericciosi E' vero mi segnali pericciosi Sei stupido Quanto c'era Quanto c'era Quanto c'era Quanto c'era Quanto Quanto Intanto andiamo a distruggere I ambrogli Ah questi sono bardati Quindi vanno spaccati a mano Quello Che non lo prendo Aia Stupido drago Ma non rompe Esplodici Attento Un drago Un esplodio Aiuto Drago cattivo Non mi guarda Vediamo un po' Allora Eh qua Ok Quanto Quello Toccherebbe prendere Quanti ce ne mancano Scusa Intanto rompo quelli Rompo quelli Rospotenti No Mi sono andati Ai cuori Oddio Mi finisce l'armatura Aia Ok me ne manca Ne mancano due Eh non riesco a prendere Tu rompi quelli Rospotenti Uno l'ho rotto Sto lo spotente qua Ok ora Questo rompere Questo praticamente Tu copri Tu copri Mi ti copri Mi ti copri Vai 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 ti copri Ti copri Intanto lo freccio Tutto dove Va che se arrivo Crepo Crepaci Guarda che merda Mi ha buttato La palletaria Aia 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 Il fucarello Il fucarello Ora dobbiamo semplicemente Aspettare che vieni qua Quando viene qua Facciamo un battissimo Di danno Sta merda Ok io sono Dai fatti prendere Nelmeno una volta Aia Aiuto Signor andermani Io non lo stavo guardando Non si preoccupi Dove è andato Ma Sian sicuri che sono finiti Sì dovrebbero Che cacchio Perché non riesco a prenderlo Se sei scarso Guarda come lo sputente Sto drago E' un drago Rospotentissimo Lo uccido Lo uccido Anche se spammi Gli fai dannissimo Guarda come scende la vita Che godurio Aia Aia Si sta ribellando Aia Il fucarello Il fucarello E' un po' Rospotente E' vabbè Proprio una passeggiata Ok lo freccio Ciao Rospotente Ciao Rospotente 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 Cosa anche io ho tirato Vrmm Aia Non riesco a picchiare Vai 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 Via 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 ho fatto ma ho buttato in altissimo ok sono qua sono qua beccia poca vita c'è un interso della vita aria ma io sei dove sei dove sei dove sei per mia roba non sto guardando niente io ok allora ho portato piccone ma sei pazzo vabbè dai allora se ti ho detto faccio poco ma guarda come si sto come dove sei? sono entrata dai che l'hai così ammazzato dai dammi la roba cosi lo finiamo non so dove sei eh vai vai sono all'acqua vado all'acqua dammi anche solo l'arco che riesco a ammazzarlo c'è l'arco dietro di te che fai eh non volevo aia 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 picchia 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 lo sto prendendo a piccola fracciata rospotente no lo faccio fuori io dammi il cibo dammi il cibo le mene d'oro mi servono le mene d'oro mi servono le mene d'oro dammi la mene d'oro che cacchi sono il cane questa fraccetta ti ucciderà l'ho preso l'ho uccido io l'ho uccido io l'ho uccido io l'ho uccido io via c'è via c'è via c'è picchia 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 no che merda non volevo uccidere guarda e voleva arrivarci guarda che faccia guarda che faccia non te l'aspettava guarda voleva arrivare ok a portare non cascare sul portale non picchiare l'uovo tutto l'ex pittà che c'è mia tutta l'ex pittà 50 li ma quanti livelli daaa ma io mi ricordo che desti 70 livelli io ne ho 40 e ne ho 50 io ne ho 54 io ne ho 54 e vabbè e vabbè allora l'uovo lo lasciamo là dove sta il portale la 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 ok l'ho visto l'ho visto però non ci ha raggiato non ci hai raggiato della sua potenza ok allora 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 andiamo di... e vabbè ma proprio più un culo al mondo non ci lo poteva mettere se tu mi spingi ti ammazzo ma che ti spingo vai 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 si lo sputente si lo sputente occhiai dimmi quanto andare poco ancora basta fare scala di interesse torniamo e chiudiamo l'app l'app I have an app I have... I have... I have a sod episodio ma sta arrivando andermen e ci butta giù ok sono andato ci sei tu ok 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 ma che cavolo e vediamo adesso se ci stanno delle fortezze nelle vicinanze ok vediamo un po' tu dove sei andato? di qua mi vedi intanto prendo anche un po' di chorus fruit oh si vedo qualcosa vedo la nave cosa vedi? non ci credo davvero? credo di sia qualcosa in aria quindi la nave dove 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 seguimi eh non so dove tu sia era un'isola a sinistra a sinistra a sinistra del portale eh no 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 non l'ho vista la nave si c'è la nave no non c'è la nave è una mega in city è una mega in city c'è la nave c'è la nave ma tutto questo voi c'è una mega in city cavolo ma è enorme forte ma tutto questo voi lo vedrete nel prossimo episodio oh oh ho volevato vedere le regole che fasci non si aspetta bene se abbiamo finito con gli episodi faremo tantissima tappa nel prossimo episodio prima galai camuore e detto questo ci vediamo al prossimo ciao Io non muoio però stupidissimo